A dieci giorni dal terribile incidente occorso in Val d'Orcia durante un evento sportivo promozionale, Alex Zanardi è stato sottoposto a un nuovo e delicato intervento chirurgico al Policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena, nosocomio presso il quale il campione paralimpico è ricoverato dal pomeriggio dello scorso 19 giugno. La decisione riguarda il secondo intervento è stata presa dallo staff medico che segue l'atleta bolognese in seguito agli esiti di un'attacca di controllo. Nell'ambito delle valutazioni diagnostico-terapeutiche effettuate dall'equipe che ha in cura l'atleta, è stata effettuata una tomografia computerizzata di controllo. Tal'esame diagnostico ha evidenziato un'evoluzione dello stato del paziente che ha reso necessario il ricorso ad un secondo intervento di neurochirurgia. Dopo l'intervento, durato circa due ore e mezza, Alex Zanardi è stato nuovamente ricoverato nel reparto di terapia intensiva dove resta sedato ed intubato. Il quadro clinico per i medici che hanno in cura Zanardi rimane quindi invariato per ciò che riguarda la situazione cardiorespiratoria. Ma desta ancora apprezzone la situazione neurologica che finora non ha permesso un alleggerimento della sedazione con relativa uscita dell'ex pilota dal coma farmacologico. Le sue condizioni rimangono stabili dal punto di vista cardiorespiratorio e metabolico ma gravi dal punto di vista neurologico. La prognosi rimane riservata. L'intervento effettuato rappresenta uno step che era stato ipotizzato dall'equipe e i nostri professionisti valuteranno giorno per giorno l'evolversi della situazione.